Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, questo episodio di Non puoi non saperlo è dedicato all'umanesimo. Con il termine umanesimo, coniato nel 1808 dal pedagogista tedesco Friedrich Immanuel Neithammer, si identifica quel movimento culturale ispirato da Francesco Petrarca e in parte da Giovanni Boccaccio, che riscopre i classici latini e greci non più nella loro interpretazione allegorica, ma nella loro storicità. Si assiste quindi a una rivalutazione di usanze e credenze dell'antichità e al loro reinserimento nella quotidianità, al fine di promuovere un rinnovamento della cultura europea dopo i secoli bui del Medioevo. Prima di procedere come sempre vi ricordo che se avete bisogno dei testi dei miei video sono disponibili su Amazon, vi lascio un link in descrizione e questo è anche un modo per sostenere il mio canale. La prima affermazione umanistica nella filosofia occidentale è di Protagora, filosofo sofista del V secolo a.C., che vediamo in questa immagine, e che affermò, aperte virgolette, di tutte le cose misura e l'uomo, di quelle che sono per ciò che sono, di quelle che non sono per ciò che non sono, chiuse le virgolette. Queste parole segnano lo spostamento della speculazione filosofica dalla natura all'essere umano. Sin dagli albori della filosofia greca, infatti, l'uomo è sì al centro dell'interesse della filosofia, ma lo è in quanto parte della natura, mentre con l'avvento della sofistica e successivamente del socratismo platonico, l'uomo viene studiato in quanto tale e nel rapporto con gli altri uomini, a prescindere dalla sua relazione con le forze della natura. Con la fine dell'età classica e l'inizio della stagione ellenistica, la riflessione sull'essere umano si sposta su problemi di carattere etico. Gli stoici, gli epicurei e gli scettici, corrente che prosegue fino alla piena età romana, cercano di fornire all'uomo un'etica pratica utile per affrontare la vita quotidiana, ma allo stesso tempo capace di dare una risposta ai misteri dell'esistenza, tra cui la morte. Questa accezione etica continua all'interno della cultura romana, sia letteraria teatrale sia filosofica. Ricordiamo in particolare la lode della virtù da parte di Cicerone, che nasce nel 106 a.C. e muore nel 43 a.C. e la dimensione elitaria e autosufficiente del saggio professata dallo stoico Seneca, che vediamo ritratto in questa immagine e che nasce il 4 a.C. e muore nel 65, nell'anno 65, dopo Cristo, ovviamente, che riportano queste tematiche alla questione dei principi etici umani intesi non come riflessione morale ma come vita pratica. In letteratura, a partire dal II secolo, il commediografo Publio Terenzio Afro elabora ulteriormente la funzione etica nel dramma teatrale. Humanitas per Terenzio significa anzitutto volontà di comprendere le ragioni dell'altro, di sentire la sua pena come pena di tutti. L'uomo non è più un nemico, un avversario da ingannare con mille ingegnose astuzie, ma un altro uomo da comprendere e aiutare. Ecco quest'ultima era una citazione di Pontigia Grandi. Queste tematiche affascineranno, più di mille anni dopo, l'animo di Francesco Petrarca, considerato uno dei fondatori dell'umanesimo. Fin da giovanissimo, infatti, Petrarca manifesta un grande amore per i classici latini e nel corso della sua vita consulterà con grande attenzione le più importanti biblioteche capitolari dell'Europa cristiana alla ricerca delle opere degli autori da lui tanto amati. Ecco, ricordiamo che una biblioteca capitolare è una biblioteca gestita da un capitolo, ossia da un'assemblea di presbiteri o di religiosi cristiani. Petrarca opera una netta spaccatura rispetto al passato, sia in filosofia sia in letteratura, spingendo la nuova elite intellettuale a riconoscere la dignità dell'uomo in base alle proprie capacità innate e a sostenere che la cultura classica debba costruire un'etica in netta contraposizione con la scolastica aristotelica, corrente di pensiero lontana dal proposito di indagare la natura dell'anima umana. Ne consegue quindi la necessità di una vivificazione dell'antico che si concretizza nello studio e nel culto della parola, cioè la filologia, al fine di comprendere fino in fondo i valori etici e morali dell'antichità classica. Ricordiamo che con il termine che abbiamo citato prima, scolastica, si intende la filosofia cristiana medievale che cercava di conciliare la fede cristiana con un sistema di pensiero razionale, soprattutto quello della filosofia greca. Studiando in dettaglio gli antichi manoscritti, Petrarca e gli umanisti si convincono che la lezione morale degli antichi sia universale e valida per ogni epoca storica. L'Humanitas di Cicerone, come quella di Sant'Agostino, esprime infatti gli stessi valori, quali l'onestà, il rispetto, la fedeltà nell'amicizia e il culto della conoscenza, valori che uniscono i due periodi storici seppure si siano separati dalla conoscenza del messaggio cristiano. Petrarca avrà attorno a sé un folto numero di discepoli, soprattutto a Firenze, tra i quali spicca a partire dal 1350 Giovanni Boccaccio, che vediamo ritratto in queste immagini. L'affinità tra i due intellettuali dura fino alla morte del Petrarca nel 1374 e aiuta Boccaccio ad acquisire appieno la mentalità umanistica e allo stesso tempo a padroneggiare le tecniche filologiche necessarie al recupero e all'interpretazione dei manoscritti. Boccaccio diventa infatti il principale referente dell'umanesimo a Firenze e al contrario di Petrarca si dimostra profondamente interessato alla cultura e alla lingua greca. La realtà storica italiana di quegli anni è caratterizzata dalla crisi del comune medievale e dalla nascita delle signorie, mentre in Europa vanno affermandosi le monarchie nazionali. Per potersi dedicare alla libera ricerca culturale, gli intellettuali del tempo decidono quindi di legarsi a una corte, scelta che inevitabilmente porta alle seguenti conseguenze. La prima accentua gli elementi aristocratici delle loro opere, in quanto sono destinate a un pubblico ristretto di iniziati. La seconda si allentano i legami con la comunità urbana, poiché la vita in campagna è sentita più congeniale ai cosiddetti ozzi letterari. La terza e ultima si rompono i legami tra la ricerca in campo culturale e l'insegnamento. L'umanesimo della prima metà del quindicesimo secolo, detto primo umanesimo, è caratterizzato da una grande vitalità nello studio e nella diffusione della nuova corrente culturale, quella dell'umanesimo appunto. Si assiste infatti a un intenso lavoro di recupero dei manoscritti nelle biblioteche capitolari e alla loro traduzione dal greco al latino per facilitarne la successiva diffusione. Vengono creati circoli e accademie private dove i simpatizzanti dell'umanesimo si riuniscono per scambiarsi notizie e informazioni, diffuse poi su scala nazionale attraverso fitti scambi epistolari in latino, promuovendo così il genere dell'epistolografia come maggiore mezzo di informazione. Gli studiosi hanno operato la seguente categorizzazione del primo umanesimo, quindi ci sono quattro categorie. La prima, umanesimo filologico, incentrato sulla scoperta, l'analisi e la codificazione dei testi antichi. La seconda, umanesimo laico e filosofico, i cui esponenti, influenzati dal neoplatonismo, producono testi che celebrano la libertà e la natura umana. La terza categoria, umanesimo politico, Veneto, Fiorentino e Lombardo, che esprime le linee politiche delle regime di appartenenza. Quarta e ultima categoria, umanesimo cristiano, che si preoccupa di conciliare i valori dell'antichità con quelli del cristianesimo. Queste categorie non devono però essere pensate in modo rigido, in quanto non è infrequente osservare all'interno dell'opera di uno stesso autore elementi delle diverse categorie appena elencate. A partire dagli anni 60 del quindicesimo secolo, con la definitiva affermazione delle signorie sui regimi municipali e repubblicani, ad esempio l'ascesa dei medici a Firenze o degli Sforza a Milano, il movimento umanistico perde la sua energia innovatrice ed eterogenea, a favore di una staticità filologica più consona all'ambiente cortigiano. Il recupero dell'antichità e il principio dell'imitazione dei classici favoriscono nella cultura quattrocentesca l'affermarsi del latino come unico veicolo comunicativo dell'umanesimo. Una delle poche eccezioni è l'opera del 1442 di Leon Battista Alberti intitolata Grammatichetta Vaticana, conosciuta anche col nome di Regole della lingua volgare. Si tratta infatti del primo manuale di grammatica della lingua volgare italiana, nel quale l'Alberti sottolinea come in questa lingua, abbiano scritto grandi scrittori e che quindi debba avere la stessa dignità letteraria della lingua latina. Bisognerà però aspettare fino agli anni 70 per osservare un sistematico ritorno del volgare quale lingua della cultura e della poesia, grazie alla politica culturale di Lorenzo il Magnifico, che intende esportare la produzione lirica toscana nel resto d'Italia, sancendone in tal modo la superiorità. Ecco in questa immagine un ritratto appunto di Lorenzo il Magnifico. L'opera che segna la nascita dell'umanesimo volgare è la raccolta aragonese di Poliziano, un'antologia letteraria voluta appunto da Lorenzo il Magnifico e da lui offerta in omaggio a Federico d'Aragona, in cui si mettono a confronto i classici con i grandi poeti toscani dal 300 fino allo stesso Lorenzo. L'umanesimo cambia anche il modo di insegnare. La pedagogia umanista infatti adotta sul modello platonico il dialogo come mezzo di trasmissione della conoscenza, coinvolgendo lo studente nel processo di apprendimento per mezzo di un clima cordiale e abolendo ogni forma di punizione fisica. Viene insegnato il latino direttamente dai testi classici senza affidarsi all'eccessiva teoria grammaticale medievale, il greco, la letteratura e poi le scienze degli studia humanitatis, ovvero la storia, la filosofia morale basata sull'etica nicomachea di Aristotele, la filologia, la storiografia e la retorica. Nei programmi scolastici vengono anche reintrodotti gli esercizi fisici, in quanto secondo il principio dell'armonia dell'essere umano oltre all'anima anche il corpo deve essere nutrito, curato e migliorato. Scopo di questo percorso di studi è quello di formare uomini virtuosi e buoni cristiani, destinati a gestire lo Stato secondo principi di onestà e di rettitudine morale. Molto bene, questo è tutto per quanto riguarda l'umanesimo, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi di Non puoi non saperlo e come sempre se avete bisogno dei testi di questi video li trovate tutti su Amazon insieme agli altri miei libri e vi lascio un link in descrizione. Ciao a tutti e alla prossima!